Mr. Canistra, una grande vittoria contro un'Imperia che comunque vi ha dato filo da torcere, ci credeva in questa partita? Ma guarda, noi abbiamo preparato la partita sapendo di venire Imperia contro la capolista e contro una squadra che fino ad oggi ha fatto otto vittorie e un pareggio e una sconfitta, quindi una squadra che sicuramente ambirà la vittoria del campionato. Siamo venuti qua umili sapendo di poter fare la partita per giocarcela e secondo me i ragazzi sono stati perfetti perché comunque abbiamo fatto una prestazione secondo me maiuscola. Grande aggressione per tutto il campo dall'inizio del primo tempo, si aspettava un ritmo così elevato fino alla fine della partita? Ma fino alla fine no, anche perché noi il campo così pesante d'erba non siamo abituati, però credo che fino alla fine non l'abbiamo dato un centimetro e di questo ci ha ripagato della prestazione che abbiamo fatto. Grazie a voi.